Primo giorno di nuove regole in Italia con il super green bus necessario per entrare negli uffici postali o nelle banche. La vaccinazione per gli over 50 può subire un'accelerazione? Io credo che si subirà un'accelerazione, ma un'accelerazione relativa, considerando che in Abruzzo noi passiamo dal 91% degli over 50-60 che hanno almeno visto somministrato una dose al 99% degli over 90 che invece si sono visti anche somministrato una dose. Per cui se facciamo una media siamo sopra il 94-95%. Quindi se consideriamo i positivi che ci sono stati tanti in queste settimane economiche, lo ritengo che siamo agli sgocci. Oggi doveva essere anche il primo giorno senza le mascherine obbligatorie all'aperto. Si è deciso di prolungare questa norma per altri 10 giorni. Secondo lei è giusto? Sì, tutto sommato è giusto. Considerando che è vero che c'è una tendenza al plateau e alla discesa della curva, però mettiamoci in sicurezza. D'altra parte gli altri 10 giorni non cambiano la vita e ci permettono di arrivare al 10 febbraio con un andamento della curva che sarà in discesa in tutto il paese. Gli oltre 100 mila attualmente positivi sono un numero enorme e condiziona anche l'attività produttiva della nostra regione. Questo se l'aspettava? Lei lo aspettavate? Ma ce l'aspettavamo. All'inizio questa varanda Eromicron non si capiva bene come si sarebbe comportata. Poi si è visto che è una variante che seppure ha una minore letalità però ha una diffusione enorme. Per cui è chiaro che tutti questi positivi hanno un po' condizionato la scuola. Tante classi sono in DAD e mi fa piacere che il governo rivedrà anche questo aspetto. Ha condizionato anche il colore delle regioni perché la pressione sugli ospedali non è una pressione reale. Nel senso che negli ospedali non ci sono soltanto quelli che hanno Covid positivi e hanno malattie polmonari, ma anche quelli Covid positivi che hanno altre malattie. per cui nulla a che vedere col Covid se non perché sono positivi. E quindi è chiaro sicuramente a condizionato perché ritengo che il governo abbia stabilito, abbia visto la necessità di dover modificare sia il colore delle regioni, sia la scuola e altri aspetti. Quindi ancora qualche settimana e poi cercheremo di ritornare ad una normalità che ci manca da troppo tempo.